Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi parliamo di Thrustmaster. Così Thrustmaster già ragazzi gioca con noi a nascondino con un bundle super economico che potrebbe potenzialmente spaccare il mercato entry level del Direct Drive. E diciamo che è una mossa commerciale molto interessante visto che uscirà proprio prima di Natale ragazzi. Stiamo parlando del nuovo T598 di Thrustmaster, questo prodotto che presenta caratteristiche che potrebbe attirare l'attenzione. Infatti introduce il rivoluzionario motore Direct Axial Drive con una tecnologia Axia Flux. Ma che significa? Secondo quanto dichiara la casa madre, questo motore dovrebbe eliminare il cogging. Allora, il cogging. Ok ragazzi, che cos'è il cogging? Per chi non sapesse cos'è il cogging è quella fastidiosa sensazione di scatti o di resistenze quando si gira un volante. E questo è causato solitamente da una irregolarità nel campo magnetico del motore elettrico e qui potrei chiedere una mano al mio carissimo amico Eugenio Ciullo. Ciao Eugenio! Grazie a questo nuovo design, a quanto pare, il volante dovrebbe girare in modo perfettamente fluido senza alcun attrito indesiderato. Il risultato sarebbe, a detta di Thrustmaster, un force feedback che, stando alle specifiche, sarebbe di alta qualità, con effetti di guida più chiari e più precisi. Inoltre, Thrustmaster afferma che il motore offre una coppia costante di 5 Nm, ragazzi stavamo parlando di un entry level ovviamente, con una capacità ovviamente di overshoot, il che si tradurrebbe, secondo loro, in una potenza maggiore e in sensazioni di guida potenziate. 5 Nm? Non lo so, sarebbe da testare. E il tutto seguito da una latenza bassissima di soli 5 millisecondi. Grazie alla tecnologia Harmony, il 598 genera vibrazioni di alta frequenza, o meglio dovrebbe, e questo, secondo il produttore, permetterebbe di percepire ogni singolo dettaglio della strada, dei cordo, gli stridivoli pneumatici, fino alle più piccole asperità del terreno. 5 Nm? Ok, bisogna verificare. Un'altra caratteristica però che è molto interessante è lo schermo race dash integrato, cioè Thrustmaster indica che con questo schermo si possono configurare il force feedback e personalizzare oltre 10 diversi parametri. Inoltre ovviamente funzionerebbe come una dash normale e in cui potremmo visualizzare informazioni cruciali come velocità, tempi migliori, posizione gara, eccetera, insomma come una classica dashboard ragazzi. Passiamo al volante. 30 cm, impugnatura in gomma, per un comfort ottimale per come dice Thrustmaster. Dotato di leve del cambio mag shift che dovrebbero offrire un'attivazione molto chiara e precisa e aggiungendo normalmente un tocco diciamo sportivo. Le palette ragazzi sono sempre fighe. E in più è dotato di un selettore multifunzione in cui sono configurabili 12 azioni aggiuntive a portata di mano. Selettore magari per le mappe e se roba qua. Non dimentichiamo ovviamente, compreso nel bundle, la pedaliera Raceline Pedals LTE in metallo che anche qui secondo Thrustmaster è molto scalabile e modulare dotata di due pedali con sensori earth e a proposito di questa tecnologia sta per All Effect Accurate Technology che significa che si basa sui sensori famosissimi magnetici ad effetto all che conosciamo benissimo che appunto garantiscono una precisione e una lettura estremamente elevata e cosa importante elimino l'usura meccanica nel tempo che non è poco ragazzi, si aumenta la longevità. Ed in più dichiarano che sarà personalizzabile in termini di durezza dei pedali grazie proprio alle molle incluse e ai blocchi di arresto regolabili. Questo per quanto riguarda la configurazione del bundle. Ma veniamo alla bomba ragazzi, il T598 è compatibile con PS5, PS4, PC ed è plug and play con oltre 100 giochi. Inoltre fa parte già di un vasto ecosistema Thrustmaster che conosciamo benissimo quindi può essere espanso con tutti i volanti aggiuntivi, cambi e frena a mano per personalizzare al massimo la vostra postazione o comunque chi ha Thrustmaster. Cioè non è poco ragazzi, è una bomba pazzesca questa e questi se le avevano nascosta, cioè non sono neanche andati all'ADAC, questi usciamo quando vogliamo noi, noi siamo Thrustmaster e ci hanno pure ragione. L'uscita è prevista per il 29 novembre ad un prezzo di soli 499,99€ per tutto il bundle completo. Quindi questo T598 potrebbe veramente avere un impatto significativo sul mercato entry level perché questi sono entrati a tackle, proprio a gamba tesa. Cioè è veramente competitivo al massimo. Cioè questa proposta veramente è davvero molto interessante per chi vuole iniziare, ok, entri con un bundle da 500€ oppure se vuoi aggiornare la tua configurazione magari restando con l'ecosistema Thrustmaster e senza spendere una fortuna. Quindi ragazzi, che ne pensate di questa mossa strategica di Thrustmaster di far uscire dopo l'ADAC e prima di Natale questo bundle entry level da 5 Nm completo a 500€? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ovviamente lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e come al solito noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao! Grazie a tutti!